www.redigio.it e la storia continua Nel segno del carroccio, il carroccio del Vescovo Ariberto Abbiate diventa Abbiate Grasso Il testamento di Ariberto del 1044, che indica l'entità dei suoi possedimenti nei territori della campagna milanese, anche ad Abbiate e a Ozzero, chiama per la prima volta Castrum, castello, fortezza o accampamento, la località di Abbiate, le cui fortificazioni egli stesso aveva provveduto a completare e a rinforzare. Ma l'elemento più importante contenuto nel testamento del grande arcivescovo consiste nella nuova denominazione data al paese. La testimonianza scritta, infatti, si riferisce alla località come Abbiate, qui dicitur grassus, Abbiate, che ha detto Grasso. In un documento posteriore datato 1098, anche la valle Attigua, la località, sarebbe stata definita grassa. Ma da cosa può derivare questo aggettivo entrato poi a pieno titolo nel nome della futura cittadina? Le congetture sono più di una. Lo storico Ambrogio Palestra scarta l'opinione secondo cui la valle fu detta grassa per la sua fertilità. In riva del Ticino i terreni sono tutt'altro che grassi. Propendendo per altre due, grassus potrebbe essere stato un nome proprio, un personaggio oppure una casata nomiliare dal nome grassus molto comune nel Medioevo, che avrebbe denominato il castrum abbiatense, a causa delle sue particolari relazioni a noi ignote. Oppure alla mutazione del latino gradus, che, fra i suoi significati originari, ha quello di passo, un atto di avvicinarsi. Nel termine esquisitamente medievale, grass, passato a intendere lo scalo, il luogo di imbarco e di sbarco dei passeggeri. Nel caso nostro, spiega il palestra, Abbiate sarebbe stato chiamato Grasso perché nel suo territorio si trovava quell'importante porto fluviale di cui parlano i documenti. Il mutamento di nome fu comunque sintomatico del cambiamento strutturale della località. Il villaggio gallo romano, Abbiate, era divenuto un munitissimo castrum mediovale, Abbiate Grasso, che, tra l'altro, appartenne dal 1000 al 1300 alla mensa arcivescovile. Anche Legnano, sempre più legata a Milano e al suo arcivescovo, ebbe pregevole castello. Fu la famiglia Cotta a farlo costruire dopo l'anno 1000. E in quel periodo di magenta si hanno invece notizie tramite un documento compilato da un certo Bertasi, che accenna a un loco mazentai nel 1079. www.redigio.it E la storia continua.